Proseguiamo nel nostro discorso relativo ai componenti di React e quindi andiamo a vedere alcune cose sui componenti abbiamo già visto come dichiarare i componenti qui ripassiamo brevemente i componenti possono essere definiti tramite delle funzioni che prendono come parametro le proprietà e quindi al loro interno possiamo usare il meccanismo per creare gli elementi React che abbiamo visto in precedenza quindi o con React create element oppure direttamente con la sintassi JSX oppure in maniera un po' più flessibile, per lo meno per ora possiamo definire delle classi che estendono una classe per ogni componente che estende React component e che implementa il metodo render e dico più flessibile perché all'interno della classe potremmo inserire altri metodi mentre invece se facciamo un'unica funzione questo non è possibile quindi il componente non può avere altre funzioni per lo meno al momento nel momento in cui definiamo render render non riceve parametri perché le proprietà sono accessibili invece direttamente tramite il props che è agganciato al dis il dis che è il componente che quindi verrà creato da React nel momento in cui c'è necessità e quindi questo componente avrà tra le sue proprietà props che ci consente appunto di accedere alle proprietà e questo componente ritorna nel metodo render esattamente quello che ritorneremo in questa funzione qui a sinistra è il risultato di React create element piuttosto che la stessa cosa fatta con la sintassi JSX e ovviamente questo potrà essere anzi tipicamente è funzione delle proprietà che sono state passate alla funzione o presenti nel componente quindi i componenti prendono delle proprietà come input e ritornano elementi come output ovviamente ci sono vantaggi e svantaggi che abbiamo già intravisto qui chiariamo meglio nel fare le cose tramite funzioni piuttosto che classi quindi chiaramente in un caso sono funzioni nell'altro caso sono classi che devono però per forza implementare un metodo render ritornano alla stessa cosa esattamente come le funzioni in un caso le funzioni ricevono props come argomento nell'altro caso invece lo accedono a props come una proprietà dell'istanza il vantaggio di usare le classi che possono definire altri metodi all'interno dell'istanza nel caso delle funzioni queste devono essere funzioni di tipo puro cioè non devono avere effetti collaterali ad essere idempotenti che vuol dire che nel momento in cui passiamo alle stesse proprietà devono darci la stessa identica risposta e questo significa che sostanzialmente così come sono perlomeno come l'abbiamo visto finora non possono gestire uno stato mentre invece i componenti possono gestire uno stato mantenuto localmente e quindi possono gestire eventi di life cycle cioè del cambiamento dei componenti a seconda di cosa succede all'interno della pagina e così via tramite una logica che andiamo a definire e che poi possiamo definire appunto in altri metodi e così via è possibile anche farlo con le funzioni ma con un sistema che andremo a vedere più avanti gli ux e così via chiariamo dunque che cosa succede nel momento in cui diciamo abbiamo creato i componenti e dobbiamo sostanzialmente visualizzarli all'interno della pagina quindi c'è questo meccanismo definito da React che si chiama reconciliation ossia andiamo a calcolare tutto quello che succede all'interno della struttura dei componenti che abbiamo e lo riporteremo anzi React lo riporterà alla fine all'interno del DOM del browser così che sia visualizzato quindi questo meccanismo della reconciliation è attivato nel momento in cui qualcuno chiama il metodo ReactDOMRender per esempio all'inizio quando carichiamo la pagina questo viene chiamato automaticamente quindi proprio all'inizio oppure nel momento in cui qualcuno va a chiamare un setState che quindi potenzialmente va a cambiare delle cose all'interno degli elementi quindi nel momento in cui c'è qualcosa che cambia su un certo elemento E questo elemento va a determinare qual è la sua rappresentazione quindi nel momento in cui o è creato quindi sotto forma appunto è una classe oppure qualcuno chiama il metodo render di questo elemento E dobbiamo ottenere la sua rappresentazione sotto forma di un ElementTree che eventualmente riceve delle altre proprietà così come vengono calcolate e passate da E e quindi le ElementTree sono tutti gli elementi figli del elemento stesso e si continua a fare questa operazione di chiamata o di costruzione dell'elemento per tutti i sottofigli all'interno dell'ElementTree fino a che non si raggiungono elementi di tipo nativo quindi per tutti gli elementi di tipo non nativo si ripetono operazioni quindi si crea l'elemento oppure si chiama render ricorsivamente fino a che si arriva a elementi nativi quindi nel momento in cui ci sono solo più elementi nativi nel DOM allora a questo punto ecco il vero diciamo così algoritmo di reconciliation di matching diciamo di React viene eseguito e sostanzialmente l'ElementTree così calcolato quello nuovo viene confrontato con l'ElementTree che esiste nel virtual DOM correntemente in React tramite un algoritmo molto efficiente che appunto funziona con complessità ODN e il risultato di queste operazioni di modifica del virtual DOM verranno propagate quindi inviate incluse nel DOM del browser quindi diventeranno visibili all'utente ecco notate che quindi questa operazione avviene al termine del calcolo di tutto il ricalcolo degli ElementTree e quindi tutte le modifiche verranno propagate insieme in un unico batch diciamo così al browser che quindi farà tutti gli aggiornamenti in un'unica operazione mettiamo ora alcuni diciamo suggerimenti per creare i componenti e quindi definire che cosa dovrebbe essere creato come componente in React per quanto riguarda la nostra applicazione intanto diciamo che è del tutto normale avere tanti piccoli componenti nelle nostre applicazioni React e ogni componente è costruito componendo tipicamente altri componenti i componenti ovviamente possono essere ripetuti tipicamente con differenti proprietà come per esempio un elemento che costituisce un item in una lista un elemento di una lista abbiamo un unico componente e magari con proprietà diverse per visualizzare messaggi diversi contenuti diversi e così via e magari abbiamo un componente parent quindi padre che diciamo istanze i vari componenti figli ovviamente aggiornando di volta in volta passando di volta in volta anzi le proprietà ad ognuno dei componenti che compongono l'elemento all'interno della lista quindi è del tutto normale lavorare con questo meccanismo componenti abbiamo visto che c'è anche un meccanismo efficiente appunto per gestirli e quindi non è un problema avere tanti componenti se il componente diventa troppo complicato probabilmente è segno che sarebbe bene provare a riscriverlo sotto forma di più più componenti possibilmente indipendenti e riutilizzabili che diciamo svolgano lo stesso lavoro quindi diciamo è come quando scrivete una funzione troppo complicata ha troppo complessità al suo interno forse è bene scriverla sotto forma di funzioni che svolgono compiti più semplici che poi vengono composte insieme richiamate insieme dalla funzione principale qui l'idea è esattamente la stessa dobbiamo solo avere una piccola avvertenza nel senso che dobbiamo dare un piccolo aiuto all'algoritmo di reconciliation di react nel momento in cui abbiamo da gestire delle liste di componenti perché per funzionare in maniera efficiente questo questo algoritmo ha bisogno diciamo di avere un modo semplice per capire se gli elementi nella lista sono rimasti gli stessi oppure sono cambiati e ne è cambiato l'ordine e così via questo meccanismo è sostanzialmente l'uso di un attributo particolare di nome key che dobbiamo creare nel momento in cui creiamo una lista di elementi per ognuno degli elementi nella lista stessa queste chiavi questi valori univoci all'interno della lista notate solo all'interno della lista non è necessario che siano univoci all'interno dell'applicazione aiutano react a identificare diciamo efficientemente quali elementi sono cambiati sono stati aggiunti rimosse e così via e così possiamo mantenere l'efficienza di quell'algoritmo di reconciliation che abbiamo descritto prima altrimenti sarebbe molto più difficile per react andare a capire che cosa effettivamente è cambiato all'interno della lista intanto vediamo un esempio di come creare una lista quindi diciamo che abbiamo il nostro react dom render e vogliamo renderizzare semplicemente una lista di numeri quindi avremo una ordered list con del list che sono i numeri quindi abbiamo il nostro componente number list a cui passiamo una property una proprietà che è numbers che è sostanzialmente un array e che verrà appeso come componente a root nell'html va bene e quindi nel momento in cui viene creato il componente number list riceverà come props l'array questo array e qui per comodità ce lo postiamo in una variabile e poi facciamo map e quindi creiamo un nuovo array in cui per ognuno degli elementi dell'array quindi messo qui number che è il parametro della callback preso da map andiamo a creare un elemento questo di tipo nativo perché è semplicemente un array quindi non è un componente react definito da noi ma è un elemento nativo che al suo interno contiene il testo che desideriamo noi notate qui abbiamo semplicemente messo la sintassi jsx e quindi questo effettivamente è qualcosa che possiamo fare come abbiamo già evidenziato prima perché alla fine verrà tradotto in codice javascript da Babbel che ci fa la traduzione in codice javascript quindi effettivamente possiamo fare così e quindi list items sarà un array che contiene una serie di elementi che sono sostanzialmente questi i list items e possiamo ritornarlo dal nostro componente sotto questa forma di nuovo col jsx con le tonde per comunità ul e poi la nostra lista in questo caso non abbiamo messo la key e in effetti dicevamo andrebbe messa perché altrimenti l'algoritmo di reconciliation vi darà un warning in fase di diciamo se sviluppate con la modalità sviluppo come di default e il confronto per vedere se qualcosa è cambiato diventerà molto molto meno efficiente quindi noi dovremo inserire una qualche chiave come andiamo a determinare che chiave inserire quindi avremmo dovuto creare l'elemento in questa maniera lì key uguale qualcosa nell'esempio precedente bene questa chiave ovviamente dipende dall'applicazione nel nostro esempio semplice poteva essere tranquillamente l'indice all'interno dell'array in esempi più complicati quindi in applicazioni più complicate magari questo elemento questo item rappresenta un qualche cosa che è memorizzato da qualche parte che so in un database in qualche struttura in cui è già presente un identificativo ebbene quell'identificativo potrà tranquillamente essere utilizzato siccome è unico e come chiave anche in questa occasione quindi qui per esempio nell'esempio visto che è semplicissimo possiamo fare un semplice number to string però per esempio che so nell'esempio della to do list che avete visto nei laboratori potreste potreste per esempio utilizzare l'id che non so vi viene fuori dal database piuttosto che che avete inserito come identificativo unico del to do quindi le chiavi devono essere specificati nel momento in cui costruiamo l'array dei componenti tipicamente nella chiamata map e come dicevamo il fatto che la chiave sia unica è solo richiesta all'interno della lista stessa e quindi non è necessario che sia globale che ovviamente è una semplificazione notevole ecco una piccola sfortuna diciamo così un piccolo problema diciamo che abbiamo a livello diciamo di sviluppo e che qui ne dobbiamo considerare nel momento in cui creiamo queste chiavi queste chiavi sono utilizzate internamente da react e non sono purtroppo disponibili come proprietà nei componenti per cui se noi avessimo necessità di avere accesso come proprietà al numero quindi all'identificativo che abbiamo usato come key dobbiamo passarcelo come seconda parametro e quindi crearci un secondo parametro quindi tipo un id uguale a qualcosa che poi possiamo accedere tramite il props all'interno del componente perché non possiamo scrivere props appunto key semplicemente e diciamo così privata di react nel momento in cui usiamo la funzione render o comunque ritorniamo qualcosa da una funzione che descrive un componente react dobbiamo sempre ritornare un albero di elementi un element tree con un'unica radice questo è importante non possiamo ritornare più elementi dobbiamo ritornare sempre un'unica radice e questo può essere un po' scomodo talvolta perché se diciamo nel nostro nel nostro nella nostra applicazione abbiamo già previsto che c'è un container element per esempio un div o qualcosa di questo tipo vabbè allora questo non è un problema creiamo questo questo nodo dom e lì dentro diciamo possiamo inserire i nostri i nostri diciamo questo può agire da radice del nostro dell'albero degli elementi però utilizzare questi elementi dom in certi contesti potrebbe non essere valido per esempio utilizzare un div in alcuni contesti in html non è non è possibile che so dentro una tabella e così via dentro gli elementi della tabella eccetera quindi è possibile utilizzare un nodo speciale sviluppato a questo scopo da parte di React che si chiama React Fragment che può essere usato per diciamo tenere insieme una lista di elementi all'interno di una singola radice e questo elemento speciale non verrà tradotto in alcun nodo a livello di DOM quindi se non sappiamo come racchiudere gli elementi e non far comparire nulla nel DOM dobbiamo usare questo React Fragment che ha anche una sintesi semplificata nel JS JSX che quindi è un minore maggiore senza alcun nome che sostanzialmente ci consente di creare automaticamente questo React Fragment veniamo ora ad un aspetto un po' più diciamo complicato ma anche che ci consente di realizzare applicazioni un po' più sofisticate ovviamente che è la gestione delle proprietà e dello stato all'interno dei componenti il meccanismo è quello che vedete sulla slide nel nostro componente React riceviamo delle proprietà che vi ricordo la freccia è unidirezionale perché all'interno del componente React sono immutabili quindi non possiamo cambiarle riceveremo anche un context che diciamo serie di proprietà globali ma che affronteremo poi nelle prossime lezioni e se avessimo necessità possiamo anche crearci uno stato e questo effettivamente è mutabile quindi gestibile può essere cambiato tramite opportuni accorgimenti quindi utilizzando un metodo specifico e così via all'interno del da parte del componente React stesso il componente ritorna un element tree nel quale può eventualmente passare ulteriori proprietà proprietà che derivano dalle proprietà che gli sono state passate oppure anche altri tipi di informazioni che il componente vuole passare incluse per esempio informazioni di stato che però saranno passate come proprietà ai vari componenti figli e i componenti figli come vedete non c'è una freccia che torna indietro non possono andare a modificare lo stato direttamente nel componente padre quindi perché se anche ricevessero dell'informazione la ricevono tramite proprietà che sono immutabili quindi questo è lo schema di gestione delle proprietà e dello stato quindi le proprietà sono immutabili lo stato è dove un componente mantiene l'informazione e la mantiene localmente nessun altro può andare a modificarla solitamente quando anzi sempre quando lo stato cambia il componente deve essere ne deve essere fatto il re-render poi può darsi che l'aspetto non cambi però react scatena le operazioni di re-render e quindi fa girare di nuovo tutto quell'algoritmo di reconciliation alla fine del quale può anche succedere che non ci sia niente da modificare però solitamente qualcosa cambia e quindi c'è qualcosa da cambiare nella visualizzazione e lo stato è privato al componente ed è modificabile solamente dai metodi del componente stesso e quindi non dai metodi dei figli del componente stesso quindi questa sarà una cosa da gestire e vediamo tra poco come è possibile gestirlo il context invece lo affronteremo più in dettaglio più avanti ed è una specie di diciamo di 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 elemento che scusa di oggetto che ci consente di accedere a delle proprietà di tipo globali implicite che sono passate in maniera automatica a tutti i componenti però ne parleremo più avanti come passiamo le proprietà ai nostri componenti beh in JSX è molto semplice ogni attributo che inseriamo è convertito in una proprietà quindi che so abbiamo un componente header e scriviamo header text col camel case come abbiamo visto prima con un certo valore e questo diventa accessibile dentro il componente stesso con this props header text e ovviamente sarà il valore che abbiamo passato quindi this props raccoglie tutte le proprietà che vengono passate e sono però ridonni non possiamo andare a modificare e il valore può essere un qualsiasi oggetto javascript o addirittura anche altri elementi react quindi può anche essere che la proprietà corrisponda ad altri elementi react è possibile andare però opzionale come metodo opzionale è possibile andare a specificare un meccanismo per dichiarare il tipo di dato di ogni proprietà che sarà controllato da react a runtime ma solamente diciamo in fase di sviluppo questo è per facilitare diciamo le operazioni di sviluppo come sapete javascript è un linguaggio che diciamo può cambiare dinamicamente il tipo del dato contenuto all'interno delle variabili quindi diciamo che non c'è un meccanismo di checking a priori del tipo delle variabili e questo da un lato è un vantaggio ma dall'altro può diciamo dar luogo a errori se non viene gestito attentamente quindi c'è questa diciamo così facilitazione tramite un pacchetto apposta che si chiama prop types che potete installare con un solito metodo npm install che ci consente di fatto di avere a disposizione dei validatori del tipo di dato contenuto all'interno delle proprietà che girano a runtime in modalità sviluppo e che ci danno eventualmente dei messaggi nella console javascript così che possiamo eventualmente sistemare problemi ed errori che potrebbero venire fuori durante lo sviluppo vediamo un esempio di come si usa ripeto è opzionale però vi invitiamo ad usarlo perché è un aiuto in fase ovviamente di sviluppo di debug va ovviamente importato e è possibile usarlo col meccanismo delle classi per definire i componenti definendo una proprietà che si chiama prop types sulla classe inserendo poi tutti i nomi delle proprietà e usando i valori messi a disposizione da questo prop types che corrispondono ai vari tipi javascript e così via quindi può essere fatto in questa maniera oppure direttamente come diciamo proprietà statica della classe quindi diciamo con la stessa sintassima all'interno della classe forse questa è un po' più chiara perché rimane diciamo più facilmente collegabile alla classe stessa perché rimane diciamo al suo interno almeno sintaticamente questi sono tutti i validatori che avete a disposizione ovviamente potete consultare la documentazione che abbiamo linkato per andare a vedere tutto quanto necessario conoscere per tutti i principali tipi di dati inclusi array oggetti eccetera sono presenti i validatori e possiamo anche dire che certe proprietà sono richieste quindi è necessario che abbiano un valore quindi diciamo abbiamo la possibilità di mettere questi check che vengono verificati in runtime così da facilitare il debugging di eventuali problemi abbiamo anche la possibilità di mettere dei valori di default alle proprietà questo è al di fuori del pacchetto precedente quindi questo è proprio di react quindi non c'è bisogno di installare niente in aggiunta al precedente cioè al come invece dobbiamo fare per la validazione precedente quindi questo è di default di react e possiamo specificare dei valori di default nel caso in cui certe proprietà non siano passate al componente quindi come i valori di default e i parametri delle funzioni diciamo e il meccanismo è questo e quindi creiamo un static con la proprietà default props in cui inseriamo tutti i valori di default e quindi nel momento in cui ritorneremo un componente per esempio count slash che non ha a cui non passiamo proprietà però al suo interno userà una proprietà initial value avremo che il this initial value sarà già inizializzato ad 1 anche se non l'abbiamo fatto esplicitamente ovviamente abbiamo la possibilità visto che è una proprietà anche di dichiarare esplicitamente col valore che vogliamo 2, 3, 4, 5 quello che volete riguarda la validazione di cui parlavamo poco fa la validazione diciamo avviene dopo che i valori di default sono applicati così che diciamo è un check ma non è un check immediato ma un check dopo i valori di default parliamo ora dello stato che è una delle cose ovviamente più importanti da imparare a gestire all'interno di React lo stato è semplicemente un oggetto è un oggetto javascript che contiene informazione locale privata del componente che può essere modificata dal componente stesso con il modo che vedremo tra poco il set state e che così notificherà del fatto che è stato modificato come facciamo prima di tutto a definirlo quindi a crearlo all'inizio è semplicissimo assegniamo un oggetto al this state nella costruttore della classe e questo implica che dobbiamo aver definito il componente con la sintassi della classe quindi class componente extents eccetera e dobbiamo avere un costruttore e quindi non possiamo farlo con il meccanismo delle funzioni perlomeno non con quello che abbiamo visto finora quindi esempio welcome button extents react component abbiamo costruttore e semplicemente facciamo this state uguale un oggetto un oggetto che contiene tutto quello che vogliamo quindi delle proprietà che hanno un valore questo ovviamente è molto semplice un'unica proprietà con un valore booleano ma potrebbe avere un valore che contiene degli array altri oggetti e così via è un normale oggetto javascript e questa è la versione iniziale dello stato ovviamente perché è inserita nel costruttore e poi questo this state sarà ovviamente a disposizione del componente che per esempio può usarlo e tipicamente verrà fatto nel metodo render per diciamo cambiare la visualizzazione a seconda dello stato in cui si trova il componente stesso o eventualmente prendere i valori dello stato e passarli come proprietà ai figli e così via quindi dentro il componente ovviamente possiamo riferirci al this state e usarlo quando è necessario mi raccomando mai 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 andare a modificare il this state direttamente possiamo fare solo l'inizializzazione nel costruttore che è il momento in cui incomincia ad esistere lo stato però non dobbiamo mai scrivere this state uguale qualcosa all'interno del resto del codice perché? perché è necessario notificare react del fatto che vogliamo compiare lo stato perché questo ha un'implicazione sul fatto che dobbiamo eventualmente cambiare la visualizzazione e questo deve scatenare quindi l'algoritmo di reconciliation e quindi se noi usiamo il metodo che vedremo tra poco il set state che abbiamo ereditato dal react component questo avverrà automaticamente con la modalità che vediamo ora quindi nel momento in cui vogliamo modificare lo stato dobbiamo usare per forza questa funzione set state quindi faremo this set state con il nuovo valore dello stato nella forma di questo updater che adesso descriviamo quindi tutte le modifiche allo stato devono essere richieste a react tramite questo set state e notate che il set state farà le modifiche in maniera asincrona non immediatamente e quindi non è una funzione asincrona ma farà l'operazione in maniera asincrona se abbiamo necessità di sapere quando questa operazione è avvenuta come sempre in javascript questo si può fare ma con un meccanismo di callback quindi c'è un secondo parametro opzionale di set state in cui possiamo inserire una funzione che è una callback che verrà eseguita nel momento in cui dopo anzi che le modifiche dello stato saranno state applicate cosa passiamo quindi alla set state updater può diciamo sostanzialmente avere due forme può essere o un oggetto o una funzione vediamo il primo caso un oggetto se passiamo un oggetto react fa un merge diciamo non profondo shallow quindi non ricorsivo sugli oggetti annidati delle proprietà dell'oggetto stesso nel nuovo stato quindi diciamo che avevamo una proprietà num nello stato che era 1 e se noi scriviamo num2 vorrà dire che questa proprietà num diventerà 2 perché esisteva già e quindi la portiamo a nuovo valore se non esisteva verrà creata la nuova proprietà e se però diciamo questa proprietà corrispondeva a un altro oggetto piuttosto che un array e così via non possiamo riutilizzare l'oggetto l'array dello stato precedente ma dobbiamo dare un nuovo oggetto perché nel momento in cui abbiamo un nuovo oggetto abbiamo un nuovo reference e così react ha la possibilità di accorgersi che quella proprietà è effettivamente cambiata quindi non possiamo cambiare solo un pezzettino dello stato quindi un un elemento di un array che corrispondeva ad una certa proprietà nell'oggetto dello stato perché se così facciamo react non ha il modo di accorgersi del cambiamento perché fa un merge di tipo shallow cioè solo sulle proprietà le proprietà quindi in quel caso sarebbero un riferimento un riferimento che non cambia perché è cambiato il contenuto dell'oggetto dell'array ma non il riferimento e quindi non si capisce che è cambiato un'alternativa al meccanismo di passare un oggetto è quello di passare una funzione vedremo tra un istante poi perché potrebbe essere conveniente farlo quindi possiamo passare anziché l'oggetto una funzione che verrà richiamata da react nel momento in cui riterrà opportuno quindi in maniera asincrona questa funzione prende come parametri lo stato e le proprietà e ritornerà lo stato aggiornato e deve ritornare un nuovo oggetto di stato con le proprietà ovviamente che vogliamo modificare e non deve andare a modificare lo state deve ritornare assolutamente un nuovo oggetto quindi sono due meccanismi differenti per andare a modificare lo stato in generale la set state viene tipicamente richiamata nel momento in cui abbiamo degli eventi di tipo asincrono per esempio c'è un event handler che viene richiamato e quindi c'è la necessità di andare ad aggiornare qualcosa all'interno dell'applicazione ho fatto clic su un bottone ho fatto clic da qualche parte come utente e quindi ci sarà qualcosa che deve cambiare oppure per esempio è successo un altro evento di tipo asincrono ho caricato le informazioni nel server e chiaramente voglio inserirle nella visualizzazione quindi avrò un pezzettino di codice che dirà a questo punto cambia lo stato dei figli di un componente aggiungi dei componenti e così via perché ho caricato della nuova informazione e così via quindi in generale prendiamo per esempio il caso dell'eventander e del DOM in questo caso l'eventander è una funzione che a sua volta chiama la setstate per esempio diciamo che abbiamo un bottone quindi un normale bottone DOM che diciamo come abbiamo visto nell'esempio generazione precedente in cui vogliamo cambiare il contenuto quindi la scritta sostanzialmente sul bottone allora diciamo che all'evento onclick e questa è la proprietà vi ricordate cosa abbiamo detto prima la proprietà scritta in questa maniera camel case che viene mappata sull'attributo DOM a questa proprietà agganciamo l'event handler this handle click ovviamente qui saremo dentro una classe che è un componente che renderizza il nostro bottone this handle click è questa funzione che abbiamo definito appunto come funzione che va a chiamare this del componente setstate e english quindi va a cambiare il componente scusate lo stato e passo un nuovo notate è un nuovo oggetto un nuovo oggetto che può anche andare a prendere se necessario informazioni diciamo dallo stato corrente e calcola il nuovo stato però con un'accortezza che vedremo poi tra un istante quindi questo è il meccanismo che potremmo utilizzare che abbiamo già visto peraltro un esempio l'altra volta per andare a modificare lo stato in funzione di un evento asincrono come appunto quello che succede nel momento in cui facciamo un click e quindi viene richiamato un event under mi raccomando bisogna fare assoluta attenzione visto che stiamo usando il this e ricordarsi come funziona nel momento in cui usiamo l'arrow function ovviamente tutto funziona perché l'arrow function vi ricordate prende il this del contesto esterno all'arrow function e quindi se siamo dentro la classe tutto va bene perché il this ovviamente si riferisce all'oggetto e quindi è corretto così nel momento in cui però definissimo l'endor click non come arrow function ma come funzione all'interno della classe questo meccanismo non funziona più perché vi ricordate le regole su come funziona il this nel momento in cui facciamo questa chiamata conta dove facciamo la chiamata e quindi il this in questo caso sarebbe non settato sarebbe undefined sostanzialmente e allora nel costruttore dobbiamo prendere e fare in modo che la handle click che andremo ad utilizzare che utilizzeremo torniamo indietro nel qui this handle click che inseriamo nel render e che quindi è quello che andiamo a richiamare nel momento in cui qualcuno clicca sia collegato col bind al this corretto quindi facciamo il il bind della funzione di questa handle click fisso sul this il this che in questo caso è corretto ed è quello dell'oggetto nel quale siamo che è quello nel costruttore cioè è quello che stiamo costruendo col costruttore quindi attenzione mi raccomando a questa cosa del this e quindi attenzione a come definiamo le funzioni l'abbiamo già intervisto più volte nel momento in cui abbiamo la row function dobbiamo fare attenzione perché il contesto è differente per esempio avete visto nel caso del database quando ci venivano ritornate le informazioni nel this chiaramente dovevamo usare il modo corretto di definire la funzione piuttosto che di nuovo nell'event handler se voi scrivete un event handler e non usate la row function poi può diventare complicato andarlo a gestire anche nel DOM diciamo senza tutto senza reato dunque abbiamo visto prima che è possibile passare sia l'oggetto sia la funzione al set state che cosa dobbiamo fare dunque se la logica questa è la regola semplice se la logica per calcolare il nuovo stato dipende dallo stato corrente usiamo sempre una funzione questa è proprio diciamo la linea guida alla quale potete attenervi perché se noi facessimo come è scritto qui a titolo di esempio che però non consigliamo che so aggiorniamo la proprietà e questa proprietà la calcoliamo sulla base dello stato corrente un normalissimo contatore diciamo che abbiamo un bottone clic 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 facciamo tanti clic e ogni volta facciamo il set state in element handler e ovviamente diciamo this state counter più uno questo this state counter è valutato nel momento in cui la set state è chiamata perché? perché javascript funziona così cioè questa è un'espressione questo è un oggetto e prima di passare l'oggetto valuta l'espressione all'interno dell'oggetto però il new state quindi il nuovo stato sarà assegnato più avanti in maniera sincrona quindi vuol dire che dopo che abbiamo chiamato set state non è detto che il this state counter immediatamente valga questo valore perché l'aggiornamento viene fatto in maniera sincrona quindi se vengono fatte tante richieste a sincrona alla set state per esempio clicchiamo rapidamente il nostro bottone che richiama la set state qualche aggiornamento potrebbe andare perso perché? perché si basa su informazione non aggiornata perché se lo set state del click precedente non è ancora stata eseguita in maniera sincrona quindi il nuovo stato è stato aggiornato il secondo click andrà a rieseguire questa operazione e prenderà il this state corrente che è quello che non è ancora stato aggiornato e quindi che so avevamo 1 facciamo più 1 e 2 però al secondo click sarà ancora 1 e quindi faremo più 1 e 2 e alla fine avremo 2 e non avremo 3 come avremmo voluto invece tipicamente quindi questo sistema diciamo non va bene nel momento in cui facciamo un calcolo che dipende sullo stato corrente perché lo stato corrente potrebbe non essere aggiornato per avere la garanzia che sia stato aggiornato invece passiamo a una funzione quindi passiamo a una funzione state props come parametri che abbiamo detto che sono richieste la funzione da passare e in questo caso ritorniamo al nuovo stato counter due punti state che è il parametro non sarà più il this state ma è lo state che quindi ci garantisce che sarà già stato aggiornato nel caso delle altre richiamate asincrone precedenti e metteremo state counter più 1 e allora in questo caso lo stato è garantito avere l'ultimo valore perché la funzione viene richiamata in maniera asincrona ma dopo che sono state fatte le altre chiamate asincrone precedenti di aggiornamento dello stato e quindi lo stato ha dunque l'ultimo valore che è quello corretto e quello che ci aspettiamo vediamo ora un piccolo esempio finora abbiamo visto dei componenti che è un componente anziché sostanzialmente ha lo stato al suo interno quel bottone che cambia la scritta diciamo sul bottone stesse quindi non c'è da gestire l'interazione tra più componenti come facciamo però nel momento in cui abbiamo più componenti e vogliamo andare a modificare lo stato in un altro componente per esempio consideriamo questo esempio in cui abbiamo quattro bottoni che funzionano tipo radio button cioè uno può essere selezionato ma gli altri non devono essere selezionati quindi vogliamo avere una scelta diciamo tra una serie di opzioni nel momento in cui selezioniamo un bottone premiamo su go in questo caso diciamo go potrebbe diciamo avere un suo stato interno e modificare il suo stato dicendo sono selezionato però il punto è come facciamo nel momento in cui selezioniamo un bottone a fare in modo che cesse che scacchi già selezionato diventi deselezionato bisognerebbe andare a modificare lo stato interno a cesse e allora questa cosa ovviamente non è possibile perché in React abbiamo detto un componente non può andare a modificare quello di lo stato di un altro componente e quindi l'informazione riguardo al fatto di quale bottone si è selezionato potrebbe non essere nel bottone per esempio ci potrebbe venire l'idea di mettiamo facciamo un componente diciamo che racchiude questi quattro bottoni e mettiamo un'informazione di stato all'interno di questo componente perché così nel momento in cui creiamo i sottocomponenti quindi i bottoni possiamo andare tramite le proprietà a decidere quale facciamo selezionato e quale no però il problema è che allora nel momento in cui uno seleziona fa clic su un bottone come facciamo andare a modificare lo stato nel componente che li contiene che è appunto lo stato che poi può essere facilmente passato tramite le proprietà a tutti gli altri quindi l'idea è mettiamo lo stato nel in questo gruppo di bottoni chiamiamo il componente button group però poi dobbiamo avere un modo per andare a modificare lo stato in questo in questo componente quindi diciamo che la nostra applicazione è diciamo parte dall'app che è quella che ci viene il componente app che è quello che ci viene generato da quel react create app che è il componente radice di tutti quanti poi all'interno di questo componente andiamo a mettere il nostro componente che è il button group che quindi conterrà i nostri componenti simple button che poi andranno a creare i singoli bottoni abbiamo detto che mettiamo appunto lo stato all'interno di questo button group che è quello che ci manterrà l'informazione di qual è il bottone selezionato come facciamo a mantenerla beh allora prima di tutto vediamo di gestire il fatto che da qualche parte dobbiamo passare l'informazione i simple button su quali bottoni sono quindi per esempio tramite le props possiamo avere una serie di props che ci dice che sono l'indice del bottone primo, secondo, terzo, quarto uno, due, tre, quattro il nome che è il nome che poi andremo a scrivere sul bottone poker, chess, eccetera se è selezionato oppure no così il bottone sa come visualizzarsi quindi se visualizzarsi per esempio in questo caso in azzurro oppure in grigio e per fare la visualizzazione ovviamente ci avvaliamo delle classi del CSS per esempio bootstrap e così via quindi di fatto poi questa proprietà selected sarà una proprietà che ci serve a decidere quali classi andare a inserire all'interno del simple button cioè del button che viene creato dal simple button e nel momento che abbiamo un indice sostanzialmente possiamo usare questo indice come il valore dello stato state chosen nel momento in cui però qualcuno clicca sul bottone dobbiamo avere un modo per andare ad aggiornare questo indice con una set state che sostanzialmente scatenerà tutto il meccanismo di react che ricalcola tutto il virtual DOM che quindi scatener e rendere e quindi aggiorna la visualizzazione secondo quello che desideriamo noi sulla base dello stato infine abbiamo un'ulteriore proprietà che mettiamo sull'app cioè a livello superiore che sostanzialmente è la lista dei bottoni che desidereremo avere così che il button group prende questa proprietà come input e crea tutti i bottoni che desideriamo quindi se volessimo un quinto bottone potremmo semplicemente aggiungerlo come quinto qui all'interno della lista quindi questa è l'analisi diciamo del funzionamento della nostra applicazione e di dove ci conviene mettere lo stato e ci manca solo più capire come andare a modificarlo prima di passare oltre però andiamo a vedere il codice di questa applicazione che mi mettiamo a disposizione su Github quindi andiamo per esempio appunto abbiamo aperto si chiama Game Buttons dunque questo è l'app che in realtà appunto contiene le properties che una sola properties che è Names come abbiamo detto prima che sono i quattro valori dell'array che vengono passati al Buttons Group poi ci siamo fatti un Buttons Group più che altro per comodità per non scrivere tutto all'interno dello stesso file però più componenti piccolini possono tranquillamente anche stare nello stesso file però per semplicità qui abbiamo fatto un file per componente ma nel momento in cui avete tanti componenti piccolini vedete poi voi come organizzare il codice quindi andiamo a vedere anzi prima il Simple Button che ci serve per capire come funzionano le properties quindi nel momento in cui io ricevo qui il componente è implementato tramite una funzione come avete visto visto che non mantiene lo stato abbiamo fatto che fare una semplice funzione e che forse è anche più semplice da scrivere quindi la funzione ritorna un elemento e ritorna un Button un Button che ha una serie di proprietà differenti a seconda del fatto che la props che riceve indica che è Selected è True piuttosto che False quindi nel momento in cui è True io vado a creare un Button che ha un certo class ricordatevi qui si deve scrivere className perché class è una parola chiave riservata e usiamo className e usiamo le classi di Bootstrap e sostanzialmente facciamo un bottone tipo Primary cioè viene fuori quel bottone blu piuttosto che il grigio nell'altro caso poi abbiamo lo stile che è vabbè è una questione di stile ma semplicemente una questione di visualizzazione Disabled True ricordate questo è l'attributo in cui diciamo che è quello presente o non presente in HTML e quindi abbiamo detto che è obbligatorio in JSX dare il valore True o False nel momento in cui lo vogliamo inserire dobbiamo per forza mettere il valore True tra graffe perché è un valore JavaScript e poi abbiamo il nome che è il Props Name che è di nuovo un'altra cosa che viene passata nel Props e che verrà passata appunto dal Button Group altrimenti stessa cosa e vedremo poi come andiamo a fare ovviamente metteremo un Ender sull'OnClick per forza per fare in modo che il bottone non selezionato quindi sul selezionato non ci serve però sul non selezionato faccia scatene un'operazione che dopo andiamo a vedere in Button Groups creiamo i nostri bottoni li mettiamo dentro un div per comodità e facciamo sui names che riceviamo dall'app quindi con l'array un map name index e andiamo a creare il simple button questa è la sintesi GXX vedete che mettiamo un minore simple button eccetera simple button che sarà poi chiuso quindi con lo slash quindi è un oggetto cioè un elemento già chiuso un key che in questo caso ci viene semplice mettiamo l'indice dell'array ricordate negli array è necessario negli array di componenti è necessario avere questo key quindi ce lo chiede React e che impostiamo semplicemente all'indice all'interno dell'array ricordate che la callback a map prende anche più parametri il secondo parametro è l'indice dell'elemento all'interno dell'array quindi qui ci viene particolarmente comodo poi avremo il name che è il nome quello che passiamo come nome che viene fatto comparire sul bottone l'indice quindi ce lo mettiamo da parte perché abbiamo detto che key non è accessibile direttamente rimane nelle properties ma è usato da React e non ce l'abbiamo poi in props key dentro il simple button e poi abbiamo la questione del selected selected che nel caso lo stato qui interno chosen sia uguale come numero all'indice allora vuol dire che selected è true oppure è false quindi lo stato lo stato è questo che noi abbiamo inizializzato come abbiamo detto di fare nel costruttore col this state uguale a un oggetto in cui abbiamo scritto chosen 0 quindi abbiamo deciso che il primo bottone a sinistra è quello diciamo selezionato all'inizio ok quindi torniamo sulle slide e quindi abbiamo visto come abbiamo realizzato questa struttura nel momento in cui dobbiamo appunto fare la modifica abbiamo bisogno che ci sia un event handler sul bottone che vada a modificare lo stato come facciamo quindi button group quindi l'elemento pad deve il componente pad deve offrire un modo per cambiare l'opzione e sarà lui che deve chiamare il set state perché è l'unico che può fare questa chiamata this set state perché lo stato può essere modificato solamente all'interno del componente stesso e allora come facciamo a far chiamare questo metodo offerto da button group che poi a sua volta chiamerà il set state da parte dei componenti figli passiamo il riferimento a questo metodo in giù ai simple button tramite un'altra proprietà quindi molto semplice le funzioni sono riferimenti che possono essere passati in javascript come tutto il resto come gli oggetti array e così via quindi sostanzialmente andiamo in una situazione di questo tipo che abbiamo intravisto prima poi adesso la rivediamo avremo un onclick che è una callback che andrà a chiamare props change selected che sarà il nome della proprietà che noi passiamo con un parametro props index che è di nuovo un'altra proprietà che abbiamo passato lì in giù quindi nel quarto bottone avremo index 4 e avremo il change selected che sarà stato posto uguale al this change selected che è un metodo in più che creiamo nel componente button group che appunto deve essere sotto forma di classe per potergli aggiungere questo metodo in più e che consentirà di fare la set state perché deve essere fatta dentro il button group e qui la cosa è abbastanza semplice siccome lo stato non dipende dal precedente qui facciamo direttamente set state aperta graffa con un nuovo oggetto chosen id quindi se noi torniamo nel viso studio andiamo a vedere che effettivamente è stato implementato in questa maniera quindi abbiamo questo qui siamo nel button group buttons group abbiamo il change selected che è un arrow function l'abbiamo fatto sotto forma di arrow function perché è più comoda per il this potevamo anche farla sotto forma di function ma poi dovevamo fare il bind come abbiamo visto nella slide e qui farà set state chosen uguale diciamo valore id che è il parametro e questa change selected sarà passata in giù come proprietà a ogni bottone a ogni componente che andiamo a creare vedete che c'è un change selected uguale aperta graffa this change selected che è la funzione che abbiamo qui nel buttons group quindi questa change selected e così diventa accessibile in buttons group e noi con props change selected possiamo semplicemente andarla a richiamare dentro il simple button che però è a un livello inferiore nella gerarchia di buttons group quindi con l'onclick agganciamo una callback che semplicemente va a chiamare change selected di props con props index e quindi dirà al buttons group di cambiare lo stato e questo stato verrà aggiornato e il fatto che chiamiamo set state scatena in react tutto il meccanismo per cui verrà ricalcolato il virtual DOM e quindi verranno poi riportate le modifiche sul DOM reale del browser e quindi viene aggiornata la visualizzazione quindi sostanzialmente abbiamo realizzato quello che abbiamo visto qui sulla slide andiamo a vedere il funzionamento quindi io ho ovviamente lanciato l'applicazione quindi ho fatto npm start su un terminale non l'avete visto in in visual studio perché ho già lanciato un altro terminale e quindi qui abbiamo la nostra applicazione che vedete funziona come ci aspettiamo apriamo il l'inspector e qui ho il il plugin che mi consente di vedere i componenti react e vedete che ci sono i 4 componenti sample button sotto buttons group notate anche che ci sono le chiavi ok se clicco 1 vediamo le informazioni relative quindi questa è rendered by app buttons group e queste sono le sue proprietà il chain selected è la funzione che consente cioè la callback che consente di poi andare a fare la modifica dentro buttons group al suo index che abbiamo aggiunto noi che è quello che ci serve da passare alla callback nome che è quello che viene visualizzato questo è il primo ovviamente selected false e andiamo a prendere il terzo se prendiamo il terzo vedete che ci sarà il selected true e e così via nel momento in cui schiacciamo ovviamente qui verrà tutto aggiornato false e l'altro sarà diventato true e buttons group ovviamente ha lo state qui ha lo state che è chosen 1 se cambiamo diventerà 3 2 e così via ovviamente se riclicchiamo sullo stesso non succede niente perché non abbiamo più collegato l'end e verrà ridisegnato il tutto quindi se noi andassimo a vedere il contenuto chiaramente qui ci sono tutte le informazioni cioè c'è il dom vero che quindi ovviamente cambia nel momento in cui andiamo a cambiare qualche cosa dunque qui prendiamo il primo e ovviamente cambierà a seconda di quello che dobbiamo fare adesso non l'ho schiacciato ecco adesso è diventato disabled quindi non è più schiacciabile e ha cambiato la classe facciamo una seconda prova ha cambiato la classe questo è stato gestito tutto automaticamente da react con questo algoritmo di reconciliation che ha fatto tutte le modifiche in una sola volta per diciamo cambiare la visualizzazione e abbiamo quindi visto un esempio di semplice applicazione e cerchiamo di trarre delle linee guida da questo esempio quindi prima di tutto come gestire lo stato in react se possibile evitiamo di gestirlo questa è la prima linea guida cerchiamo di fare componenti stateless come sono per esempio i nostri bottoni nell'esempio piuttosto che stateful perché i componenti stateless sono più facili da riutilizzare sono più veloci da eseguire possono essere dichiarati come una semplice funzione avete visto il componente bottone appunto era una semplice funzione perché non c'è tutta la complicazione di fare il costruttore con lo stato eccetera e quindi abbiamo spostato lo stato che in realtà ci serviva perché dovevamo sapere se il bottone era selezionato o no al primo elemento padre comune che è il cosiddetto state lifting sollevare lo stato lo stato se necessario si passa all'ingiù nei figli tramite i props e possiamo consentire ai figli di richiedere degli aggiornamenti dello stato passando all'ingiù delle callback function che sono messe a disposizione dall'ancestor quindi dal componente comune a tutti e che questa callback sostanzialmente richiama una funzione che andrà a fare lo set state che quindi scatena l'aggiornamento di tutta l'applicazione di tutta scusate la gerarchia della nostra applicazione react quindi adesso abbiamo materiale a sufficienza per andare a svolgere i nostri laboratori che cominceranno con un laboratorio più semplice poi comunque cominceremo a pensare a dove mettere diciamo eventualmente lo stato all'interno della nostra applicazione sempre della to do list che diciamo ci portiamo dietro nei nostri laboratori e appunto dovremo prima di tutto cominciare a pensare a come gestire le properties le proprietà all'interno dei nostri componenti e poi nel momento in cui ne avremo la necessità vedremo anche di introdurre lo stato per esempio per più avanti la selezione di solo certi task e così via quindi decidere quali task effettivamente vanno visualizzati all'interno della lista dei task eccetera quindi questo conclude diciamo questa parte diciamo iniziale di React in cui abbiamo cominciato a vedere come funzionano i componenti le proprietà il passaggio delle proprietà tra componenti e diciamo in parte la gestione dello stato all'interno dei componenti stessi e prossimamente vedremo esempi più complicati dove appunto ci sarà da gestire più stato per esempio con i forno e così via grazie dell'attenzione grazie